Il Comune si è impegnato nel sostenere questa battaglia perché la battaglia di Paola Defendi e Claudio Regeni è una battaglia di civiltà, di difesa di diritti civili e quindi un'amministrazione comunale che trova nella partecipazione dei cittadini il motore per andare avanti, per portare avanti i progetti, non può non essere al fianco di una lotta di diritti e di dignità della persona umana come quella che riguarda la tragica vicenda di Giulio Regeni, la lotta che Claudio e Paola stanno portando avanti da ormai tre anni per arrivare a verità e giustizia sulla morte e sulla tortura di Giulio. Rinunciare a perseguire verità e giustizia in questo come in tanti altri casi significa di fatto abbandonare spazi di cittadinanza, di civiltà e nel momento in cui abbandoniamo dei presidi è normale che questi vengano occupati da qualcos'altro. Riteniamo che i comuni in prima linea, le città come per esempio in questa giornata che è la giornata internazionale per l'abolizione della pena di morte, siano momenti in cui appunto i comuni e i città debbano occupare spazi di cittadinanza proponendo un percorso in cui la persona, la dignità della persona, i diritti della persona sono al centro.